bella a tutti ragazzi da sapato a tutti ragazzi qua su farmissime 13 19 ragazzi ho fatto un po di confusione coi trattori coi rumori ragazzi come potete vedere finalmente spero che questo video non si perderà perché questo qua è il terzo raccolto del mia nuova stagione qua su farmissime 13 19 benvenuti in un nuovo video mio canale ragazzi iniziamo subito a bombazza semi di soia pronti come potete ben vedere erbaccia zero fertilizzato 100 e 100 e noi siamo pronti finalmente per trebiare ok dovrebbe prendere la tuta speriamo comunque noi che cosa facciamo adesso e noi adesso dobbiamo un attimino andare a recuperare il cassone prima di tutto per scaricare la trebbia e poi vediamo che prezzi se ci conviene andare a vendere perché io ragazzi non sto aspettare le nostre aspettare io le grandi offerte comunque prezzi fanno tutti schifo deve essere a 900 sopra i 900 per vendere ok facciamo così allora allora andiamo prenderci intanto con questo trattori nel case fanali e lampeggianti accesi il peso sempre com'è perché è giusto ma che ne so io non so se nei trasporti bisogna usare il peso o no comunque di qua non arriva nessuno di qua neanche via ok negozio la devo prenderci il nostro bel cassoncino e dobbiamo solamente oggi giornata di trebbia e di lavoro allora contratti esterni da fertilizzazione li ho già fatti per quello vedete 17 mila euro ho fatto il terreno 19 che vicino al mio il terreno 10 che è un po più sopra e sono belli grandi e me li sono fatti e ho preso altri due sacchi di fertilizzante quindi se ne abbiamo in abbondanza facciamo una manovra fatta bene perfetto ok ce lo stop ma di qua non arriva nessuno a stare qua di solito le 18 le ore 18 dovrebbe esserci orario di punta ma vedo che qua non c'è nessuno anzi fatemi vedere se ho disattivato il traffico il traffico ma non penso traffico lo sta radio lo caspita sta traffico si si è pure aia ho buttato giù un cartello ok siamo arrivati nella nostra pseudo farm fatta solo di un silos è proprio vedete alla fine mi torna utile perché finché il prezzo non è buono io accumulo quando sale oltre 900 perché lo sganciato perché lo sganciato ma tu perché ti sei sganciato adesso ti riagganciamo ok bene andiamo a vederci la nostra cara no spegniamo vediamo la nostra tre violina ok au sempre una ragazza sumo e vabbè contenta tu perfetto guardiamo questa mega trebia che abbiamo vabbè voi direte brutta vecchia fa schifo però insomma il suo lavoro lo fa più che bene io sono soddisfatto di questa trebia devo dire che proprio non mi anzi vediamo se mi serve mettere la calce viva ho posto direttamente seminare calce viva richiesta però me l'è scritto è allora facciamo che segniamo sulla mappa perché non mi fido è allora di qua calce viva richiesta no tecnicamente no vabbè lì perché l'ho ingrandito un po male quella eccetera eccetera ma diciamo che è giusto così dai allora abbiamo finito finalmente di trebbiare questo campo qua abbiamo che abbiamo qua vediamo vediamo quanto abbiamo no come si dice quanto abbiamo raccolto si trebbiato quanti litri abbiamo fatto quanto abbiamo ragromellato ora gramellata ragranellata b anzi no vabbè ormai vabbè tiriamo via condotto e la mettiamo a nanna la trebbiolina vediamo invece se ci sono altre missioni ragazzi allora vediamo un po con bel contrattino da fare allora sembra un momento che parcheggio e scarico altrimenti poi oh calma fiat e mannaggia oh torna a metterti là tu ok parcheggiamolo di nuovo così perfetto giriamoci così e ragazzi se stiamo zitti zitti però mi pare che la ratura richiesta non è vediamo un po erbaccia mi è tutto erbaccia mi è tutto non ci devo fa niente perfetto pensavo che dovessi dovevo arare non so fare qualcos'altro invece fortunatamente mi è andata bene vediamo i prezzi come stanno ci sarà alzato qualcosa vediamo un po se mi dissoia 873 in discesa dobbiamo vendere sopra 900 e poi scommetto come sempre quando vendo viene fuori la grande richiesta perché funziona così come io ho talmente fortuna quindi vediamo intanto che lui scarica un contrattino da fare magari uno bello allora che sia anche vicino però è fertilizzazione campo 4 campo 2 sono lontani mietitura campo 14 campo 14 mietitura beh potremmo fare quello fertilizzazione cosa era ancora 32 mietitura 32 però 400 euro in meno che devo mulino della stazione aspetta 32 è un campo piccolo attaccato al negozio no 30 31 23 21 vediamo se c'è qualcosa lì è però momento è io ho visto irrorazione campo numero 13 il 13 qua vicino e paga bene io ho già tutto quindi accetta contratto e usiamo direttamente il fiat qua che terreno 13 qua dietro l'angolo quindi ci va più che bene a proposito no 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 fermo lì un attimino dobbiamo dobbiamo mettere la seminatrice mettiamo intanto l'operaio seminare ragazzi e dobbiamo un momentino adesso andare a errorare che abbiamo quindi il fatto il pieno per il campo tutto il terreno numero 13 se basta e come no al limite casomai dopo passiamo negozio prendiamo un pallet tanto sono 2000 se non c'è già uno addirittura allora semi di soia manteniamo i semi di soia ragazzi che valgono sempre un sacco sempre che il loro valore va su e noi ci mettiamo l'operaio seminare visto che non è richiesto niente e noi andiamo a farci il nostro lavoretto sul terreno numero 13 che ho perso quindi andiamo di qua perfetto senza ribaltarsi il 13 dovrebbe essere questo qui si parte all'11 ecco lì già lo vedo perfetto un po' di visuale interna ok arrivati dispieghiamo non so se tenerlo alto o basso forse è meglio adesso abbassarlo perché le erbacce sono basse vediamo come sta lui adesso no lo teniamo basso così è che qua poi non riesco a capire dove sono arrivato vabbè comunque accendi e andiamo apri copertura e quale copertura è da aprire comunque vabbè ma comunque si riesce a capire dai dove sono passato perché ci sono le erbacce secche si 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 ce la facciamo capire ok io mi mantengo su questa linea qua e ci facciamo tutto il campetto piano piano forse forse questa qua è l'ultima striscia vediamo un po' se è proprio questa qui è l'ultima striscia forse ci va bene ma non so se ai 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 ma in teoria forse ce la dovrei fare con il diserbante però bisogna vedere se ce la faccio con la striscia a che percentuale sto 94 magari magari se siamo fortunati forse ci basta 95 forse forse che devo fare anche quella la 97 eh si ok spegniamo accendi giusto giusto che la finisco 99 dai dai che mi basta giusto giusto 100 adesso mi dirà contratto finito io spengo eccolo lì va bene ragazzi incassiamo accetta boom 5000 euro allora facciamo così potremo scusate potremo direttamente incassare no incassare ciao incassare possiamo restituire diciamo 10.000 euro già la banca quanto è il presto 165.000 beh quanto sta l'interesse lì come c'è dove dove si vede eh ettari bla 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 non eh non viene scritto la rata saldo la rata non c'è boh restituiamo 10.000 5 e 10 perfetto abbiamo sempre 12.000 euro in tasca non male e vediamo se c'è un'altra missione magari vediamo un po' un altro contrattino 13 fertilizzazione dove sono adesso io ma certo che si che te lo facciamo subito però e quanto mi dai però qualsiasi tipo di fertilizzante bisogna leggere sempre altri 6.000 euro ragazzi andiamo a noz andiamo questo me lo faccio al volo eh anzi no al volo ragazzi vedo che invece il tempo è tiranno purtroppo mi tocca finire qua ragazzi come sempre se questa serie questo video vi sta piacendo vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale ancora se avete fatto noi ragazzi ci vediamo sempre un prossimo video sempre qua sul mio canale ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti